Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione della moneta oro per la settimana 8 di Fortnite, anticipandovi che ovviamente nel video non c'è e sarà disponibile quindi attiva a partire da giovedì prossimo, quindi della settimana che verrà. La moneta d'oro questa volta si trova qui dove c'è il monumento di Black Panther, vicino Brughiere Brumose, non potete sbagliarvi perché lo vedete già dall'alto. La moneta oro della settimana 8 della stagione 4 di Fortnite si troverà qui dove c'è la coda. All'interno della coda qui troverete la moneta d'oro.